Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro. Oggi è una giornata per chi da tanti anni sta al giornale come il sottoscritto, diciamo non felicissima, perché dal 1974, cioè dal primo giorno in cui uscì Nedicola, dal primo anno in cui uscì Nedicola, grazie all'intuizione di Indro Montanelli, il giornale contro la deriva a sinistra del Corriere della Sera, insomma per la prima volta il giornale sciopera. Io penso che forse la cosa più interessante è quella che in una nostra chat interna scrive un mio amico e collega, che è una cosa che forse dà il senso di quello che è successo. Ve lo voglio leggere perché riguarda un giornale che oggi non leggerete, ma permettetemi di fare questa piccola premessa. Non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto. Sta parlando di un giornalista che ieri ha votato per lo sciopero, che praticamente all'unanimità è stato votato dal giornale. Non fa parte del nostro carattere, anche se per alcuni è stata una sorta di giustificata rivalza. Noi siamo il giornale, quello che io ritenevo essere il tempio del giornalismo quando avevo 15 anni, questo è valso per molto di noi, e per il quale ho sempre sognato un giorno di scrivere. È il giornale Vindro Montanelli, non lo dimentichiamo mai. E noi oggi abbiamo fatto qualcosa che lui non avrebbe mai approvato, lo sciopero. Un mezzuccio usato dai giornali tipo Manifeste Unità. La cosa più abberrante e abbietta che un lavoratore possa fare al suo datore di lavoro. Devo essere sincero, ho votato a favore, come tutti, mosso dalla rabbia del momento e da un impeto di sdegno, ma adesso un po' me ne pento. Essere usciti così all'improvviso spegnendo i nostri pc alle 6 del pomeriggio mi ha provocato un forte malore interiore. I giornisti del giornale non amano sciomerare, i giornisti del giornale adorano e sanno il prezzo che pagano, un piccolo prezzo di reputazione di lavorare nel giornale che quando c'era Montanelli era considerato il giornale dei Paria ed è considerato il giornale della macchina del fango quando c'erano Feltri e Sallusti, il giornale che ci marchiava per sempre. Il fatto che oggi abbia scioperato è per un motivo molto semplice, perché l'editore ha chiesto una riduzione lineare, senza nessun avviso, per tutti quanti del 30%, del proprio stipendio. Gente che quindi guadagna, ce ne sono, 2000 euro al mese vedrà il 30% del suo stipendio drammaticamente tagliato. Si può fare una cosa di questo tipo? Certo che si può fare. Il mio amico che ha scritto e detto si fanno queste cose, facciamo tutti i sacrifici di questo mondo, diciamo che gli altri devono fare i sacrifici e noi stessi facciamo i sacrifici. Ma quello che forse è mancato ieri, pensa qualcuno, e va bene, noi facciamo questi sacrifici, ma perché? Per quanto? Per far che cosa? Come rilanciare? È un atto di morte o un atto di rilancio? Vabbè, insomma, non vi attacco un pippone sul giornale, però permettetemi nel giorno della zuppa di porro in cui per la prima volta un giornale non esce, non liquidarla a un colonnino di tre righe, come ha fatto oggi il Corriere della Sera, che ovviamente godrà dei benefici, come tante volte abbiamo goduto noi del giornale, della non uscita in edicola del nostro amato quotidiano. Basta, chiuso, fine, niente lacrimucce, quello che succede è che i temi della giornata sono ancora su Genova, su Genova, sullo scontro di Genova, perché è drammatica la questione su quale ci siamo avviluppati a Genova, cioè dopo tutti i grandi proclami, togliamo la concessione che ancora c'ha, facciamoli a pagare, ancora non hanno pagato, tutte queste balle qua, c'è la vita vera, c'è degli sfollati, 800 persone, e questi sfollati ieri si sono arrabbiati in regione perché soltanto una parte ridotta di loro è stata piazzata nelle case, una sessantina su 300. Se la prendono con Di Maio, se la prendono con Toti, poi Toti e Di Maio litigano e nel frattempo alla Camera il Ministro dei Trasporti Toninelli dice delle infrastrutture ho avuto pressioni interne ed esterne e a buon gioco il PD, glielo riconosce pure Travaglio nel fondo di oggi del fatto, dice ragazzi se hai avuto delle pressioni interno e esterne fai i nomi e se queste pressioni sono state al livello delle minacce, caro amico Toninelli, vai alla procura e denuncia, che è più o meno quello che ha chiesto ieri il PD. Trovare il PD che dica una cosa come Travaglio, Travaglio è una cosa come il PD, è merce rara quanto uno sciopero al giornale, godetevela se vi piace. Sulla Libia, che è il secondo grande tema di giornata, ieri era il primo, tregua a pagare in Libia, ma dice bene, secondo me, bene, molto bene, Vincenzo Nigro su Repubblica, le tregue diventano, durano poco, le tregue non durano poco se non sono il riconoscimento concreto di un nuovo status quo, cioè io posso fare una tregua ma ci vuole un nuovo equilibrio, ci vuole un nuovo status quo, se no la tregua dura poco. E sulla tregua quindi ci sono molti dubbi, tra l'altro tante tribù, come oggi scrivono i giornali, oggi sono 140 tribù libiche che difficilmente possono pensare di portarci a una tregua duratura, ma la cosa fondamentale è ancora la politica, perché l'Italia ce l'ha con Macron, che sarebbe quello che agita insieme a Egitto e Russia, Haftar, in generale, che controlla la Cirenaica e attraverso alcuni suoi rapporti anche una delle brigate ribelli nella zona invece controllata da Serrai. Bene, tutto questo oggi viene sintetizzato da Giuliano Ferrara in maniera, secondo me, poco lucida, lo dico per uno dei giornalisti che stimo di più, perché dice che utilizzare Macron come capro e espiatorio, sostenere che Macron destabilizzi la Libia, può aiutare Salvini e Di Maio a fare politica, ma non è la realtà, e in realtà tutti quanti i giornali italiani, persino l'avvenire, persino l'avvenire, sempre, certo che non può essere definito un giornale salviniano o giallo-verde, che cosa ci dicono? Beh, insomma, la Francia ha questo suo solito tic di usare il suo patronage coloniale nei confronti dei paesi africani, e anche in questo caso cerca di fare il fenomeno, ce lo spiega anche l'avvenire, giornale che ovviamente Ferrara legge, come tutti gli altri giornali, che spiegano che la vera questione fondamentale è che Macron oltre a essere diventato l'antisalvino europeo, ognuno si sceglie i suoi nemici, ma sta cercando, come Sarcosi, di avere un'influenza in una delle aree più importanti del mondo. Una considerazione che io vorrei fare nel giorno in cui Salvini incontra Blair, che è l'uomo della TAP, perché è consulente di questo grande gasdotto, il giorno in cui incontra la TAP, io vorrei segnalare a tutti quanti gli italiani, e oggi i giornali forse ne parlano poco, come in realtà la diversificazione, cioè avere il gas che ti viene da più parti del mondo, conviene. Non vuoi fare la TAP perché non vuoi quel gas che viene dalla Grecia, dalla Turchia e da quel fronte là? Non vuoi mandare giustamente i militari in Libia a difendere il tuo gas attraverso le tue concessioni vinte dall'ENI? Non vuoi fare l'alleanza con Putin perché... Ragazzi, dobbiamo metterci d'accordo, l'Italia non la produce a sufficienza gas. E ancora, finché la decrescita di Fioramonti e compagnia cantante non è del tutto realizzata, a noi un po' di energia serve. Poi quando chiuderemo le fabbriche e lavoreremo tutti con il reddito di cittadinanza, ovviamente questo sarà un finto problema. Per quanto riguarda invece Salvini, da segnalare un'intervista al Sole 24 Ore. Molto importante perché l'aria che si respira oggi sul fronte leghista è quella di non far casino sui conti. E dice, faremo un programma graduale, financo alla nostra flat tax, che evidentemente partirà prima per le partite IVA con delle soglie che dice il Sole 24 Ore essere fino a 100.000 euro. E poi dopo continueremo. Ma se questo è l'atteggiamento della Lega, sarebbe molto curioso di vedere qual è l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, compagno di giochi, riguardo al reddito di cittadinanza che è altrettanto costoso. Nel frattempo però dalle interviste della Sole 24 Ore si vede che Salvini dice quali sono le sue priorità. La flat tax, come vi ho detto, la rottamazione delle multe, me l'hanno chiesto i comuni. Io se fanno la rottamazione delle multe faccio un salto fino all'in fondo, per quanto godo. Però non so se questa sia una grande manovra di politica economica, scusatemi, il mio personale godimento per le multe. E poi sì alla TAP, dopo aver incontrato Blair, mi è sembrato piuttosto del solito Salvini sulla TAP. Nel frattempo abbiamo il fenomeno Oettinger, quel commissario che aveva detto che i cinesi, quelli con gli occhi gialli, che hanno gli occhi a mandorla, che hanno la riga da una parte a sinistra e tutti i capelli tinti dall'altra, quello che diceva che fanno bene i mercati finanziari a bastonare l'Italia. Insomma, questo qua che fa il commissario europeo e che ci ha spiegato che sono 3 i miliardi che noi diamo all'Europa, dimenticando che sono quasi 40 il contributo netto negli ultimi sette anni all'Europa, Oettinger dice l'Italia vuole indeburire e distruggere l'Europa. Ma brutto cretino! Nel momento in cui c'hai Salvini che sta tendendo di dire la mano, che sta dicendo che il deficit non si sfora, che non farà il suo programma elettorale, tu vai a fare una dichiarazione di questo tipo? Un cretino! Un cretino totale! La campagna del fatto continua contro il presidente della Consob Nava a proposito di autorità indipendenti, mentre i grillini nominano attraverso il solito Fioramonti, il teorico della decrescita, che è diventato purtroppo sottosegretario dell'istruzione, che cosa ci dice? Nominiamo, e all'università nominiamo Gian Russo, nuovo garante contro le truffe nei concorsi universitari. Mario Aiello oggi sul Messaggero se lo magna! Cioè, anche mi sembra che c'è un pezzo di Gramellini, ma il pezzo buono oggi di Mario Aiello, in cui dice quello di Stamina, quello di Brizzi, eccetera, va a controllare... Se lo magna! Cioè, di una forza, di una violenza pazzesca! Voglio dire, fattuale, si può più o meno condividere, però insomma, oggi se avete voglia, leggetelo. L'ultimo pezzo che dovete per forza leggere con Mast è NORDIO! No! Questi strombazzeranno questa ulteriore minchiata delle norme anticorruzione, come nel Decreto Dignità. Sono questi titoli favolosi. NORDIO, oggi sul Messaggero, ci spiega che è una minchiata, perché noi andiamo sempre a fare nuovi reati e pene più severe. E dice, tra cui il Daspo e la gente infiltrato. E dice che hanno uno scarso effetto dissuasivo, perché il rischio di essere presi, soprattutto condannati, è pari a zero. Aumentare le pene, se non te prendono, serve a niente, serve solo per fare i titoli giornali. Ma sulla questione del Daspo, cioè quello che io ieri avevo invece interpretato come cosa buona e giusta, e quindi ho sbagliato, perché oggi ho letto NORDIO e ho capito che anche quella cosa per cui chi corrompeva non poteva più lavorare nella pubblica amministrazione, che mi sembra una cosa intuitiva, geniale, fatta bene, da parte di questo governo, NORDIO dice, toc toc, attento, se tu permetti a chi corrompe di non lavorare più nella pubblica amministrazione, ci sono due opzioni. La prima che è corrompere una persona fisica, e allora non lavora più nella pubblica amministrazione, ma siccome è un manager di una società, la società lo fa fuori e ne prende un altro. Chiaro? Ne prende un altro per lavorare con la pubblica amministrazione. Quindi è risolto zero. Invece, se tu attribuisci la responsabilità oggettiva alla società che ha un manager, che ha corrotto un pubblico ufficiale, e allora diventa molto pericolosa questa cosa, perché si rischia che un solo manager che per cavoli suoi, per farsi la villetta, ha corrotto qualcuno, anche se in interesse della società, beh, insomma, in questo caso sarebbe, come dice lui, una sproporzione enorme nella pena che quella società non possa mai più lavorare per la pubblica amministrazione. Pensate su Leni, che è una società pubblica e beccano uno del Leni che ha pagato una tangente, cosa che forse qualche procura stava pensando nel passato o è successo. Cosa fa Leni? Non lavora più in Italia. Queste cose sono importanti, bisogna un po' analizzarle più, meno con la pancia, come ho fatto io nei giorni scorsi, e più forse con la razionalità. Poi stupenda la questione dell'infiltrato, dice grazie a Dio non c'è più l'agente provocatorio che era una barzelletta, perché in Italia col sistema giudicato italiano non si può. L'infiltrato, dice Nordio, in alcuni casi serve, ad esempio nella criminalità organizzata, nelle associazioni mafiose, quando ci sono più persone, ma siccome il rapporto tra corruttore e corrotto è un rapporto a due massimo persone ed è basato sulla segretezza totale tra i due, l'ingente infiltrato avrà efficacia zero. Questo pensa un magistrato che sul campo invece di fare tante pippe si è guadagnato grandi successi. Telecom ai minimi da cinque anni funziona Iliad, una società che offre quattro lire le stesse cose che offre Telecom e forse ha un call center che non dico che funzioni meglio di Telecom, ma rispetto a quelli di Vodafone e Telecom almeno qualche volta funziona e ovviamente gli fanno tutti una pelle anche se c'è da dire che Iliad non ha messo su una torre un'antenna perché tutto il resto è fatto dagli altri operatori. Partita un po' complicata la cosa fondamentale è che il mercato se ne è accorto e ieri Telecom è arrivato ai minimi dai cinque anni lo trovate ovviamente su Sole 24 Ore e apertura oggi di Milano Finanza oggi si chiama Team non più Telecom se la zuppa vi piace condividetela spero che il microfono oggi funzioni meglio dei giorni scorsi e che l'HD di questa trasmissione fatta eccezionalmente dal mio computer di Roma sia un po' migliore di quella che faccio in genere con iPad se avete informazioni da darmi tecniche tecnologiche e di aiuto fatelo tranquillamente condividete se vi piace ciao ciao